buongiorno sono giampaolo dalla pasolini auto di gussago in provincia di brescia oggi vi presento questa interessante mini cooper di 1.6 da 80 kilowatt 110 cavalli immatricolata nell'anno 2007 vettura con 194 mila chilometri percorsi trova in condizioni generali veramente buone fatto salvo qualche piccolo segno da parcheggio doppio treno di ruote lega con gomme estive e termiche il colore nero metallizzato con tetto bianco i consumi di questa vettura sono realmente bassi cambio manuale sei rapporti volante sportivo tre razze multifunzione con cruise control ecco il mostro 194 mila chilometri percorsi monta al vivo a voce bluetooth parrott climatizzatore automatico eccolo naturalmente gli alzacristalli sono elettrici dimostro anche sedile posteriore devo dire che internamente questa vettura è veramente in ordine anche sedile non presenta particolari segni di usura questa mini è disponibile in pronta consegna vi aspetto gussago presso il nostro autosalone pasolini auto per vederla provarla ed eventualmente acquistarla grazie